Ci sono cancelli al muro di ghiaccio, questa teoria è basata sulla percezione che la terra possa essere molto più grande di quanto ci viene detto e c'è una via per entrare nell'ignoto attraverso quelle che vengono chiamate le porte dell'estate. Secondo questa teoria i mondi esterni ci sono nascosti mentre siamo parte di una colonia di schiavi obbedienti nella cerchia interna. È un'illusione elaborata, elaborata, pianificata di rinchiudere, pianificata per rinchiudere le persone in un'area limitata così che la gente non penserà nemmeno di indagare ulteriormente. Secondo la teoria il ghiaccio in Antartide si scioglie d'estate e di conseguenza si creano cancelli attraverso i quali le navi possano passare in mare aperto dove ci sono altri continenti che non ci sono noti. Ecco perché gli aerei non attraversano all'antartide e alle persone comuni è proibito esplorarlo. Questo è stato tradotto dall'ebraico.